Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Bologna si viaggia in coda tra Firenze Scandici e il BV1 variante. In FIPILI in direzione Livorno si viaggia in coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino e in direzione opposta tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Ricordiamo che sono in corso in FIPILI i lavori di riqualificazione tra Montelupo e Empoli Est. In questa fase dei lavori fino al 30 maggio è previsto il doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Firenze con la completa chiusura della carreggiata in direzione mare. Lo svincolo di Montelupo resta chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Firenze. Per il trasporto ferroviario per un guasto alla stazione di Livorno i treni regionali potranno subire ritardi o cancellazioni. Per il trasporto pubblico locale è in corso per il mese di aprile la sperimentazione tariffaria per l'abbonamento mensile integrato intermodale sulla tratta Pontassieve Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!